Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è alla ricerca di macellerie interessate alla vendita di carne di cinghiale. In seguito alle iniziative svolte per risolvere il problema degli ungulati, il parco si è posto come obiettivo di individuare degli esercizi dove commercializzare la carne proveniente dal prelievo selettivo. Le attività per limitare la presenza di cinghiali erano state avviate nel giugno dello scorso anno, con la selezione di 235 se le controllori in tutto il parco nazionale, che abbattono questi animali seguendo delle regole ben precise. Ora l'ente parco, per espandere la filiera della carne di cinghiale, apre questo bando a cui potranno partecipare tutte le attività interessate tramite l'autorizzazione dell'Asra di Salerno, presentando un'istanza allo sportello unico delle attività produttive.